Il programma ha funzionato correttamente. Il programma ha funzionato correttamente. Tu sai cos'è la fabbrica dell'Ilva? L'Ilva era una fabbrica dove c'era tutto il metallo, le ciminiere giganti, ce ne erano sei e adesso ce n'è soltanto una gigante che sembra la Torre Eiffel. Il programma ha funzionato correttamente. 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 Il programma ha funzionato correttamente.